Ciao! Allora, ieri sono andata al centro commerciale, guardate, ho trovato, allora, tipo berline diciamo berline, ma fatte in legno, leggerissime, tutte colorate, e allora dico, facciamo una bella collana, ci proviamo, perché sinceramente ancora non so come la farò, come lo sapete che io man mano che lavoro la faccio. Allora, l'unica cosa che ho iniziato a fare, allora, ho preso un cotone, addirittura questo è numero 6, come vedete, sembra che è molto bello e possa dirci anche con le berline. Ho preso un ago, ho iniziato ad infilarle, ho infilato queste berline, più tra una e l'altra, ho messo, guardate, non so se riesco a farvele vedere bene, queste berline, queste berline sono trasparenti con dei, con dei brillentini dentro, spero che riusciate a vederli, e queste sono da 8 mm, le berline queste qui. Le ho messe, una, tra una e l'altra, di queste altre sfaccettate, praticamente, vedete, ho iniziato ad infilarle, e adesso vi farò vedere, ho preso un ago da lana semplicissimo, senza punta, e le ho infilate. Andiamo per l'estate, perché tanto qui il tempo mi pare che è abbastanza bello, e possiamo iniziare a preparare delle collane per l'estate. Allora, adesso vi farò vedere questa qui, guardate, penso che il tanto si è visto. Questo è il prezzo che l'ho pagato, al centro commerciale. Allora, guardate, sono carinissime, leggere, leggere, leggere. E adesso continuiamo ad infilarle, sono arrivata a quella celeste, ho messo la berlina trasparente, ora ne metto una fucsia, su perciò cerco di andare, però con quelle che ho, abbastanza lineare con me. Allora, celeste, fucsia, poi metto la berlina trasparente, metterò quella gialla, perlina trasparente, quella violetta, lilla, diciamo, ancora tra una e un'altra, metto sempre la berlina trasparente. Poi vi farò vedere, praticamente, che ho fatto anche un'altra collana, che non passerò il filo intorno alla perla, questa più grande, perché penso che sia più bella libera, però la fermiamo, praticamente, facendo la collana. Allora, questa, tra una e un'altra, ho messo queste berline, che sono trasparenti, ma sembrano molto carine. Sto seguendo una linea, se riesco a farla, fino a che ho le berline, o le, queste sfaccettate, che mi bastano, poi le metterò alla fine, un tanto dietro non si vedono tanto. Allora, forse di nuovo, e poi adesso, fra poco, iniziamo a fare la collana. Finisco tutte le berline, poi iniziamo. iniziamo facendo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, la prima tanto, non la contiamo, facciamo un'altra, e iniziamo a fare, sulla prima catenella, prendete tutte e due i fili, cioè, non prendete un filo solo, ma da un filo deve rimanere verso di voi, dalla parte opposta, e cominciamo a fare, a mezza mai alta, 1, riprendete sempre sullo stesso punto, 2, 3, 4, praticamente con le catenelle, e 5, e chiudiamo tutto, una catenella, per fermare tutte quante. Allora, io ho finito, praticamente, con una berlina, celeste, mentre, dalla parte opposta, c'ho, praticamente, quella trasparente, che alla fine, quando andremo, a chiudere la collana, rimane bene, vedete, così rimane una trasparente, una berlina in legno. Allora, a questo punto, fatta la catenella, cioè, chiusa bene, tirate il filo, e accostate la prima berlina, guardate, vi faccio vedere, semplicissimo, per non passare il filo fuori, mettete, uncinetto da questa parte, prendete la catenella, che abbiamo fatto, che abbiamo allentato, tirate giù, la berlina, e adesso, tirate il filo, in questa maniera, vedete, il filo, non è da nessuna parte, rifacciamo, una catenella, per fermarlo, e rifacciamo, un altro punto, nocciolina, qui, 1, 2, 3, e 1, 4, prendete, sulla prima catenella, cioè, la prima, una deve rimanere, rimane quasi dentro, la, se non ci avete, queste berli, potete avere, berli grandissime, qualunque colore, io adesso, ho trovato queste, le faccio con queste, però, se avete delle berli, abbastanza grandi, tipo queste, che sono, da 16 mm, vedete, super giù, la grandezza, volendo, se ce l'avete, bianche, se ce l'avete rosse, ce l'avete gialli, come ce l'avete, potete utilizzarle, ecco, adesso, cercate sempre, di prendere, tutte e due i punti, e inizio a fare, la prima, 1, 2, 3, e 1, 4, praticamente, sono sempre 5, come vi ho detto, con, le catenelle all'inizio, chiudiamo, con una catenella, adesso, tiro giù, la berlina trasparente, io ho visto, che praticamente, su questa berlina trasparente, mi ce l'ha, l'uncinetto, come, su quelle grandi, allora, che faccio, allento qui, guardate, perché, almeno, la collana, rimane pulita, metto, l'uncinetto, da questa parte, faccio, come ho fatto, con quest'altra, tiro, il filo, tirate, il filo, da questa parte, vedete, fate, una catenella, e poi, rifacciamo le 4 catenelle, per fare, un'altra volta, la nocciolina, 1, 2, 3, e 4, una, la lasciate, e prendete, da questa parte, 1, guardate, tutte e due fili, da sopra, che devono rimanere, 3 e 1, 4, totale 5, collegate nelle, come vi ho detto, chiudiamo, adesso, tiro giù, un'altra perlina, allentate, la catenella, infilate, da destra, verso sinistra, prendete, la catenella, tirate dentro, e tirate il filo, vedete, in questa maniera, alberna, rimane pulita, una, la fate, tirata, e poi, fate le altre 4, che dovete lavorare, 2, 3, e 1, 4, sulla prima, prendete sempre, le due parti, che rimanga sopra, perché almeno non vi fa il foro, e cominciamo, 1, 2, 3, e 1, 4, con le catenelle, sono 5, e chiudiamo, alentate, alentate, dentro, tirate il filo, fate una catenella, allora, facciamo, fatta la catenella, guardate, sono portata un po' avanti, per farvela vedere, come viene, adesso, vi farò vedere, da vicino, allora, una catenella, l'ho fatta, stretta, rifaccio, 4 catenelle, e, prendiamo il filo, e sulla quarta catenella, dall'uncinetto, praticamente, perché sono 5, voi, sulla quarta, dall'uncinetto, prendete sempre, come vi ho detto, i due fili, vedete, in questa maniera, e facciamo, 4 mezze, maglie alte, chiuse insieme, una, due, tre, e una, quattro, praticamente, dovete avere, 5 fili, sull'uncinetto, le chiudiamo, insieme, e fate, una catenella, stretta, in modo che, si fermi la nocciolina, tirate giù, la prossima perla, allentate la catenella, infilate, l'uncinetto da destra verso sinistra, prendete la catenella, tirate dentro, prendete, questo filo, quello che ci lavoriamo, e lo tirate, praticamente, e rifacciamo la catenella, quella stretta, tiriamo su, scusate, facciamo le 4 catenelle, per fare la nocciolina, e una 4, prendete sempre, sulla quarta catenella, dall'uncinetto, perché sono 5, praticamente, se andiamo a contare, ma noi ci serve la quarta, 1, sempre sulla stessa catenella, 2, 3, e una 4, andiamo a chiudere, è una catenella stretta, guardate, vedete, sulle, sia sulle perline, che sulle, le perle, quelle grandi, di legno, non c'è il filo intorno, e rimane molto pulita, e molto bella, guardate, spero che vi piaccia, sembra molto carina, per l'estate, con una maglietta, tinta unita, fa molto colore, e molto estiva, allora, fatta la catenella stretta, tiriamo giù, la perlina solito, allentate la catenella, infilate sempre, da destra verso sinistra, la perla, prendiamo il filo, lo passiamo dentro la perla, adesso tirate il filo che lavoriamo, guardate, e la perla rimane pulita, una catenella stretta, e facciamo le quattro per lavorarle, per fare la nocciolina, e quattro, prendiamo sulla quarta dall'uncinetto, come vi ho detto, così non vi sbagliate, prendete tutti e due i fili, dalla parte sopra, e li facciamo, le quattro mezze maglie alte, per chiuderle poi insieme, con le catenelle, e andiamo avanti, fino alla fine, in questa maniera, sono quattro mezze maglie alte, e le catenelle, dovete avere cinque fili sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, e andiamo avanti, allentate il filo, infilate l'uncinetto, prendete la catenella, e la passate dentro, a questo punto, tirate il filo che lavorate, tirate, ecco, la cosa giusta, se non la nocciolina, a finire dentro la perla, questa è quella che dobbiamo fare, più stretta, la prima, in modo che si fermi, la perla non scorra, e ora facciamo le quattro, per fare la nocciolina, penso che oramai, avete capito, io arrivo fino alla fine, che poi la chiudiamo insieme, tre e una quattro, ricordatevi sempre cinque fili sull'uncinetto, e le chiudete, finisco, poi ci ritroviamo, allora, sono arrivata quasi alla fine, guardate, adesso, finiamo insieme, queste pochine, così almeno, per chi non avesse capito, lo rifacciamo insieme, tirate sempre il filo, mi raccomando, poi adesso, quando sono arrivata alla fine, vi farò vedere, praticamente, la lunghezza, che mi è venuta, la collana, perché è venuta abbastanza lunga, penso che, alla fine, ho fatto un bel lavoretto, allora, sempre le quattro mezze maie alte, dentro, uno, due, tre, e uno, quattro, chiudete bene, con una catenella, alentate, destra verso sinistra, tirate dentro il filo, tirate quello che ci lavorate, una catenella abbastanza stretta, per fermarla, praticamente, e poi facciamo le quattro catenelle, e quattro, e sulla quarta catenella dall'uncinetto, prendete i due fili, lasciateli sempre sopra, in modo che, ecco, questa maniera, così almeno, per quanto sia il foro, non si allarga più di tanto, e dentro ci fate, le quattro mezze maie alte, e una quattro, allentate, infilate sempre da destra verso sinistra, prendete la catenella, tirate dentro, e tirate il filo, una catenella stretta, e le quattro per lavorare, se c'è qualcosa, scrivetelo sotto, spero che la collana, vi sia piaciuta, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, se non l'avete fatto, per le prossime novità, andremo a fare altre collanine, per l'estate, allora, allento, siamo arrivati alla fine, e poi la chiudiamo insieme, questo foro, per l'ultimo, è il più antipatico, fortunatamente, ecco, la catenella quella stretta, e le quattro, uno, due, tre, e quattro, appena finita, vi dirò la lunghezza, che mi è venuta la collana, e credo che alla fine, viene abbastanza lunga, pensavo sinceramente, che venisse più corta, ma essendo più lunga, è ancora più bella, come vi ho detto, io l'ho fatta tutta colorata, perché ho trovato queste, però se volete fare tutta un colore, penso che viene bellissima lo stesso, molto carina, semplice da fare, pulita perché non ci sono i fili intorno, alle perle, all'inizio forse, un pochino, semplice per fare scorrere le perle, però poi alla fine, come vedete, va da sé, la penultima, tirate sempre il filo, mi raccomando, ora facciamo le quattro cadenelle, per lavoro, e questa è l'ultima, praticamente con un paio d'ore si fa la collana, se volete fare un pensiero all'ultimo minuto, a delle nipoti, delle amiche, è facilissima da fare, costo pochissimo, come vi ho detto, non lo so se avete la fortuna di avere, perché questo negozio dove vado a rifornirmi, praticamente ha tutto per il fai da te, c'ha tanta tanta roba, e a costi proprio, che ci possiamo arrivare tutte, ecco qua, e questo lo devo togliere, perché, adesso ve lo spiego, siccome ho iniziato, con la nocciolina, logico che qui dovrò finire con la cadenella, allora faccio in questa maniera, lascio il filo un po' più lungo, lo taglio, e adesso vi faccio vedere, ecco qua, adesso vi dico la lunghezza della collana, se almeno vi regolate, quando la volete fare lunga voi, penso che sia più due metri, alla fine sì, no, di più, è due metri e quindici, adesso, prendiamo la lana, allora, queste sono due metri e quindici, sono tre pacchetti, di berline, queste un po' più grandi, ci sono quindici berline, in ogni pacchetto, perciò quindici, trenta, quarantacinque, di queste grande, e saranno quarantacinque, di queste, le berline normali, così vi ho detto tutto, a questo punto, non resta che cucire, attaccate, vedete, in questa maniera, siccome, da quest'altra parte, da quest'altra parte, ci ho fatto passare il filo della nocciolina, da questa parte, questa volta vado alla parte opposta, fate passare dentro le berline, perché più lo allontanate, è più sicuro che non vi si sfila, ecco la vede, io faccio in questa maniera, poi, voi fate come volete, però, faccio passare all'interno, praticamente, non si vede più il filo, poi, voglio passare dentro le catenelle, faccio come ho fatto prima, come quando ho attaccato i bottoni, e continuo ad andare giù, andate sempre verso le catenelle, o dentro la nocciolina, passate come volete, in modo che non si veda, più distaccate dal, dove abbiamo iniziato a chiudere, è meglio, ecco qua, penso che la maniera possa passare, adesso vi faccio vedere, la collana finita, come vedete, guardate, non ci sono fili, intorno alle perle, e intorno, a queste sfaccettate, guardate, penso che, alla fine, è venuta una bella collana, la girate quante volte volete, non è che, se la volete più corta, potete farla anche in tre volte, e ve ne pari, fatemi sapere qualcosa, scrivete sotto, e io rispondo, ciao, alla prossima,